Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione di Calabria News 24. 13 arresti nell'ambito dell'operazione denominata Ginetto da parte della Guardia di Finanza in varie regioni per bancarotta e fallimenti. Trasferivano nel Crotonese la sede legale di imprese in difficoltà del Nord Italia creando nuove compagini sociali intestate a prestanome e dopo averle svuotate dagli asset positivi le facevano fallire davanti al Tribunale della città calabrese. Era il modus operandi dell'organizzazione sgominata dalla Guardia di Finanza di Crotone che ha arrestato 13 persone tra le quali un'avvocatessa, un commercialista e alcuni imprenditori. L'indagine coordinata dal PM Gaetano Bono che ha chiesto e ottenuto dal GIP a Michele Ciociola le ordinanze di custodia è iniziata nel 2015 con l'approfondimento di una serie di SOS, ovvero segnalazioni per operazioni sospette ed è andata avanti per due anni con analisi documentali, intercettazioni, impedinamenti e servizi di osservazione. I finanzieri si sono accorti che in numerosi fallimenti decretati dal Tribunale, stranamente, c'erano sempre gli stessi rappresentanti legali. Teste di legno appositamente assoldate da una reclutatore, Giuseppe Chiodo, uomo di fiducia di quello che viene indicato come il promotore dell'organizzazione, Alberto Storari, residente a Novara ma che per anni ha vissuto a Ciro Marina. I due sono stati arrestati insieme alle teste di legno Francesco Corigliano, Luigi Pantisano ed Antonio De Angelis. Questi guadagnavano solo poche centinaia di euro dall'attività a fronte di rilevanti interessi economici. Determinanti per la spoliazione delle società in difficoltà, secondo l'accusa, sono risultati essere Antonio Castello, commercialista di Genova, e l'avvocato Ivana Massolo, con studi a Torino. Fondamentale è stata proprio l'attività dei professionisti, i quali, come dimostrano le intercettazioni telefoniche, avrebbero posto in essere le operazioni commerciali, societarie e contabili per avvantaggiare i propri clienti e spostare le responsabilità sugli associati crotonesi. Ai domiciliari sono finiti gli imprenditori Enrico Bisio di Novara, Roberto Lombardi di Genova, Luigi Minori di San Sebastiano del Po, in provincia di Torino, Maria Rosa Pascuzzi, originaria di Belcastro, nel Catanzarese e residente in provincia di Torino, Giuseppe Ferrando di Genova e Paolo De Gregori di Novara. Tutti, secondo l'accusa, si sono avvantaggiati dei servizi offerti dall'organizzazione per salvare i beni e l'azienda dai fallimenti, che si sarebbero verificati dove le società avevano le sedi legali. Altri 14 imprenditori di varie città italiane sono indagati perché nel corso degli anni si sarebbero avvalsi delle prestazioni dell'organizzazione capeggiata da storari. Nel corso dell'operazione sono state sequestrate e sottoposte ad amministrazione giudiziaria otto società operanti nel nord Italia, che sono in parte la risultante di 34 società portate al fallimento in provincia di Crotone dal 2009 fino ad ora. Ai componenti, il gruppo e agli imprenditori, è stato contestato un profitto derivante dall'illecita attività per circa un milione e mezzo di euro, mentre l'ammontare delle sole iscrizioni a ruolo per debiti tributari ammonta 140 milioni di euro per i fallimenti decretati a Crotone. L'incontro pubblico con il ministro Lorenzinna Rossano, moderato da Giuseppe Graziano, presidente nazionale del Coraggio di Cambiare, ha visto anche la presenza dei sindaci dello Ionio Cosentino. Sentiamo. Anche il sindaco di Villapiana Paolo Montalti presenta all'incontro con il ministro della Sanità Beatrice Lorenzin, che ha espresso la sua fiducia sul miglioramento della sanità nell'Ionio Cosentino, seguito anche delle parole di incoraggiamento profuse dalla Lorenzin su quante possibilità la Calabria abbia per uscire dal commissariamento e risalire dalle difficili condizioni in cui versa. Applauso da parte mia e grande merito ad un ministro che ha dimostrato di essere molto equidistante dai poteri, molto più vicino ai bisogni della gente e nella sua competenza ha dimostrato che è ancora possibile sperare in una sanità vera anche per noi calabresi. Adesso il combito sarà il nostro, quello di seguire certe indicazioni virtuose e non continuare a ritrovarci insieme a quelle che sono le esigenze delle clientele più o meno virtuose. C'è un percorso chiaro, chiarissimo, le competenze, le responsabilità, la verità. Il ministro ha tracciato una via che secondo me è quella più giusta. Io ci credo. Moderatore dell'incontro pubblico con il ministro Lorenzina Rossano, Giuseppe Graziano, presidente nazionale, dà il coraggio di cambiare. Si è voluto sapere dei cittadini calabresi cosa ne pensassero dei guai della sanità calabresi. Il ministro è al corrente perfettamente di ciò che accade in Calabria, è stata molto chiara per quanto riguarda le responsabilità. Ci sono responsabilità non soltanto commissariali ma anche responsabilità regionali in tutta questa faccenda. In termini di pochi, di due anni, si può uscire dal commissariamento. La legge prevede che ci siano due annualità in pari e prevede che si raggiunga un certo livello di LEA. Quindi chiedere di uscire dal commissariamento in questo momento è una cosa che è fuori legge. Quindi io credo che chi ha le responsabilità, che si chiami Scuro, si chiama Oliverio, debbano lavorare affinché i cittadini abbiano riconosciuto il diritto alla salute, perché abbiano una sanità giusta, che non debbano fare i viaggi della speranza per andare a cercare l'assistenza sanitaria adeguata. E nell'ultima tappa della sua giornata in Calabria il ministro Lorenzin ha inaugurato la sede di Alternativa Popolare a Morano Calabro ed ha continuato a parlare delle condizioni della sanità regionale insieme al sottosegretario del Ministero dello Sviluppo Economico, Antonio Gentile. Questa situazione non può durare. È necessario che per risollevare le sorti della sanità calabrese si debba ridistribuire l'assunzione di responsabilità sia del Governo che della Regione. Sono queste le parole del sottosegretario del Ministero dello Sviluppo Economico, Antonio Gentile, che sottolinea l'importanza del lavoro da parte della Regione Calabria per tagliare alla radice il problema della condizione sanitaria territoriale. La responsabilità confluisce al Ministero, continua Gentile, ma Oliverio deve avere pugno chiuso per ristabilire l'ordine delle cose. È necessario che i nostri problemi vengano non solo affrontati ma anche visti da tutti e quando ci si rende conto delle difficoltà che abbiamo nella sanità calabrese anche un ministro ha il diritto di esprimere la propria opinione. Lo ha già fatto a Rossano, io mi auguro che lo faccia anche qui a Morano e soprattutto la Calabria in questo momento ha bisogno della unificazione delle idee della Regione con quelle del Parlamento e con quelle del Governo. Cioè non possiamo stare su linee o su barricate diverse, dobbiamo collaborare tutti insieme per raggiungere gli obiettivi comuni che sono quelli di dare una sanità seria, pulita, semplice ai cittadini calabrese. I LEA non sono ai livelli che noi immaginavamo. Negli ultimi mesi il disastro finanziario della sanità è cresciuto a dismisura superando i 140 milioni di euro e allora su questi problemi c'era bisogno di una sterzata e penso che il ministro ci l'abbia data impegnandosi anche direttamente a delle soluzioni immediate per quanto attiene appunto la governance della sanità calabrese. L'ultimo appuntamento della giornata istituzionale del ministro è stata l'inaugurazione della sede del partito di alternativa popolare a Morano Calabro di cui si dice soddisfatto il sindaco e portavoce cittadino del movimento politico Nicolò De Bartolo. Abbiamo tenuto che il ministro fosse anche a Castrovillare a visitare il nostro nosocomio. Gli abbiamo chiesto che l'ospedale di Castrovillare debba erogare salute. Non è possibile che in provincia di Cosenza ci siano così tanti dirigenti medici che portano una spesa importante ma non ci sia un livello di erogazione di salute importante. Riteniamo che l'ospedale di Castrovillare debba riacquistare quella sua centralità. L'abbiamo chiesto con forza al ministro e penso che Beatrice l'abbia capito bene. Siamo orgogliosi e onorati di aver accolto il ministro, di aver inaugurato questa sezione, di credere nella politica dei moderati con l'Italia al centro. Penso che da qui possa iniziare un bel cammino e penso che la Calabria debba darci la forza e la voglia di poter dire la nostra. Cambiamo decisamente argomento, ci spostiamo a Reggio Calabria, precisamente nel rione Modena dove i cittadini sono esasperati per le continue fogne a cielo aperto. Oggi fogna, via Marconi a cielo aperto. A cielo aperto, è una situazione indecente, non si può vivere a rione Marconi, ci hanno buttato in mezzo alla fogna. Proprio, ci hanno scartato come delle fogne. Purtroppo noi siamo delle persone civili che lavoriamo dalla mattina alla sera e non è che possiamo combattere pure con la fogna. L'affitto lo vogliono pagato, ogni anno ci mandano i bollettini per pagare, paghiamo puntualmente e dopo tutto questo abitiamo in mezzo alla fogna. Topi, ratti, abbiamo di tutto. I topi ci sono saliti fino a sopra nei piani. Io non so come devo fare. Oggi il guasto è più grosso. Oggi il guasto è più grosso perché Scoppiato è arrivato fino alle sbarre, fino alla zona centrale sotto. Il bar sta chiudendo, altri negozianti stanno chiudendo, perché si è formata una grossa piscina. Una grossa piscina, ma è tutta fogna, tutta melma. Ma quando è che c'è messa? Oggi è scoppiata alle 8. 8-8 e un quarto, sì, da stamattina. Nessuno ha intervenuto? Non è intervenuto nessuno, abbiamo fatto più di una sola cittazione. I vigili? I vigili, nessuno sa niente, nessuno, non hanno soldi. Il comune purtroppo dice che non ha soldi, giustamente certo si mangiano i soldi e poi giustamente non possono fare i lavori che ci servono a noi cittadini. Però i soldi li vogliono per pagare l'affitto. Io chiedo solo questo, di venire a riparare tutto il rione Marconi, non solo questo, tutto lo devono riparare. Perché è una situazione indecente. Queste case non sono inagibili. Non sono inagibili. E ci hanno buttato qua, in mezzo alla fogna. Ora basta. Ora basta. Io lo so, le persone non scendono perché giustamente si vergognano, perché abitiamo in questa fogna, si vergognano a scendere, giustamente. Però la pulizia la vogliono. E se non scoppia qua, scoppia di sopra, se non scoppia di sopra, scoppia qua. Che si mettono d'accordo e fanno i lavori per bene. I garage non ci possiamo entrare, perché i garage sono pieni di topi e di ratti. E la fogna. E la fogna che scende pure dentro. I topi ci salgono dalle mura, ci bucano il cartongesso, entrano dentro le case, sono arrivati fino al terzo piano. Le case all'interno ci stanno cadendo pure i tetti, oltretutto. Già sono venuti, hanno fatto altri interventi, qua sia nel mio appartamento, quelli accanto. Abbiamo giustamente tubi di acqua che si rompono, fogna che si rompono. E giustamente al primo piano poi arriva tutta, sia di sotto che da sola, diciamo, abbiamo un tutto a fare. Tetti che ci stanno cadendo, pareti di cartongesso e che sono pieni d'acqua e ci stanno cadendo di sopra. Sono, già, se casa è qua, si sono rialzate, c'è cemento tutto dove cadono queste palazzine. Già si sono, diciamo, buttati da un lato. Sto mattina, fogna, cielo aperto. Questa è la città di Reggio Calabria. Nuove opportunità sono previste nel nuovo protocollo d'intesa siglato tra la Camera di Commercio di Cosenza e l'Ispettorato del Lavoro. Un nuovo protocollo d'intesa è stato sottoscritto presso la Camera di Commercio di Cosenza. L'accordo è stato stipulato tra l'ente e camera e l'Ispettorato territoriale del Lavoro della città Bruze e prevede la condivisione delle banche dati, la vigilanza congiunta e la formazione per l'educazione e la legalità. Un accordo dove Camera di Commercio e l'Ispettorato territoriale del Lavoro si propongono di potenziare l'informazione ai cittadini e tutelare le persone e le aziende anche attraverso la promozione di mirate iniziative informative. È un protocollo, come ho già detto, particolarmente apprezzabile perché praticamente ci sono dei profili di condivisione delle banche dati e di scambio banche dati tra l'ente camerale e l'Ispettorato del Lavoro. Questo per selezionare degli obiettivi sensibili sia per una fase preventiva che è quella della informazione, dei diritti e della normativa nei confronti delle imprese e nei confronti di tutti gli attori del mercato e sia anche per selezionare obiettivi per quanto riguarda eventuali controlli. Controlli che sono finalizzati alla tutela del lavoro e alla tutela del consumatore. Quindi le due competenze istituzionali della Camera di Commercio e dell'Ispettorato del Lavoro si sposano, si mettono insieme per prevedere anche delle attività ispettive congiunte e per evitare la sovrapposizione di controlli che risultano essere particolarmente perniciose per le aziende. Per noi è il diciottesimo accordo che noi facciamo programmatico, l'ho detto non è che facciamo collezioni di accordi, ma con la grande collaborazione che ci sono tra gli enti e la pubblica amministrazione. Il direttore ha fatto delle proposte eccezionali, quelle anche di fare molte volte la formazione insieme a noi direttamente alle imprese tramite le associazioni di categorie, come dire prevenire prima del controllo. E' uscito fuori anche un discorso di fare, ad esempio, e proporre anche agli altri, all'Imbres, all'ufficio delle entrate, un orario uguale di apertura, in modo che chi viene dalla provincia possa avere lo stesso orario e andare ai servizi dei vari enti. Il direttore ha fatto anche una specie di moralità di tutto ciò, quella di stare insieme tra endici della pubblica amministrazione, perché stanto tutte insieme possiamo dare come pubblica amministrazione un grande servizio ai consumatori e alle imprese. A Drapia sorgerà un santuario dedicato a Cristo e una cittadella di Padre Pio, composta da una casa di accoglienza, un ospedale pediatrico, con centro per la ricerca scientifica e l'assistenza domiciliare integrata, proprio come aveva chiesto il santo di Pietralcina, Adirene Gaeta, nel lontano 2004. Non avrebbe mai potuto pensare che un giorno sarebbe venuta in Calabria e avrebbe posto in essere un progetto così grande e così importante per i calabresi. Ma Irene Gaeta non si fa domande sul perché e il come. Lei ascolta il suo cuore che ha donato fin da bambina a Padre Pio, quando il santo di Pietralcina le apparve in bilocazione, la benedisse con lo stensorio e le fece vedere la trasformazione del pane e del vino nel corpo e nel sangue di Gesù, dicendole, stai attenta a questo momento. E proprio da quel momento Irene Gaeta, abruzzese di nascita ma romana di adozione, ha dedicato la sua vita ad effettuare un'intensa attività di preghiera e di adorazione eucaristica e a farsi promotrice di opere di carità. Nel 2004 Padre Pio le affidò un ulteriore progetto da realizzare proprio in Calabria, a Drapia, in provincia di Vibo Valencia, sulle pendici della collina che sovrassa Tropea. Un luogo particolare in località Ubaruni, fra le frazioni di Gasponi e Caria, che tutti conoscono come l'apparizione, a causa delle ripetute apparizioni di Gesù, che si dice siano avvenute in passato. Si tratta di un santuario dedicato a Cristo, re dei re, e una cittadella di Padre Pio, composta da una casa di accoglienza e da un ospedale pediatrico con centro di ricerca scientifica e assistenza domiciliare integrata. Un giorno appunto stavo in camera da letto, vedo Padre Pio e Gesù. Gesù sta zitto, Padre Pio mi dice «Ei qua io, in Calabria devi fare un santuario, un ospedale pediatrico, un centro di ricerca, un villaggio per sofferenti». «Ma Padre, non so calabrese, ma che mi porta a me dalla Calabria? Ti ho detto che devi fare un ospedale, un santuario, un centro di ricerca, un villaggio per sofferenti». Me lo dice due volte. La terza volta si arrabbia perché ho detto «non lo faccio, non so calabrese, che mi importa dalla Calabria». Lui mi fa «lo devi fare lì!» E mi fa vedere come un quadro, un terreno, il mare, i monti, una cittadella di sotto. Beh, io non è stata, quindi che ne so. Allora lo dico con un amico che è della Calabria, di Tropea. Dico «Sai Giancarlo, frequentavo il mio gruppo, Ceccarelli. Sai Gianfranco, Padre mi ha detto di fare una cosa così in Calabria. Irene, ma lì ci ha perso Gesù 18 volte! Ci ti porto io! Com'era il monte? Io ho detto tutto esattamente! Ti porto! Ho preso l'aereo, sono venuta, ho trovato il luogo. Poi però era difficile perché il Signore che nel terreno dove è sparso Gesù non vendeva. Quindi ci siamo dati da fare, l'abbiamo trovato sotto quello del Signor Finocchiaro e però era tanto, 18 ettari poi, era molto caro perché lui sapeva già che quel terreno valeva molto perché per motivi di ripicca col Comune non era passato aerea fabbricabile, ma sapeva che è un terreno di grande valore. L'abbiamo pagato molto, però ci abbiamo contrattato e l'abbiamo fatta. E cambiamo nuovamente argomento. È stato presentato a Cosenza il Geoportale, strumento utile per i cittadini. Vediamo come è andata. Digitalizzazione e Smart City, due concetti che si coniugano nel Geoportale del Comune di Cosenza. Sarà dunque uno strumento utile ai cittadini che avranno così un accesso diretto online alle principali informazioni che riguardano il territorio cittadino, dalle attività di programmazione e governo della città alle banche dati geografiche. Le banche dati disponibili per tutta una serie di informazioni che altrimenti andrebbero reperite direttamente in vari uffici. Quindi la comodità è che direttamente da casa, sia il tecnico sia il privato cittadino, può avere informazioni che sono utili sia per eventuali progetti, interventi sul territorio, perché si può accedere direttamente al Catasto, agli strumenti di pianificazione del Comune, regionali anche, carte e ingendi e tutta una serie di altre informazioni, ma anche al privato che per esempio vuole sapere la destinazione urbanistica di un suo terreno oppure addirittura vuole sapere i contributi da pagare al Comune su una singola particella, basta andare a accedere al sito e posizionarsi sulla singola particella, da cliccare sopra e vengono fuori tutta una serie di informazioni utilissime che altrimenti andrebbero reperite nei vari uffici. E passiamo allo sport, precisamente alla pallavolo, segnali di ripresa per la Tonno Calipo Vibo Valencia in vista delle ultime due giornate del girone di annata. Il punto conquistato contro Trento deve essere solo l'inizio per la Tonno Calipo Vibo Valencia che è amata ora a risalire in classifica. La formazione di coach Tubertini ha mostrato dei miglioramenti nel match di domenica scorsa, non sufficienti a portare a casa la vittoria, ma certamente un buon viatico per le ultime due giornate del girone di andata. Quello che però attende nel prossimo turno la formazione vibonese non sarà un impegno facile, i giallorossi giocheranno sul campo di Verona prima di chiudere al Pala Valencia contro Sora. Dopo un periodo nero abbiamo fatto punti, abbiamo mosso la classifica, si è visto un po' di bel gioco, quindi era importante per noi, per il nostro morale, per trovare un po' di fiducia nel nostro gioco e noi stessi fare una prestazione del genere. Quindi siamo contenti perché comunque abbiamo giocato, credo, alla pari con una grande squadra, abbiamo perso un sette vantaggi, vinto un altro vantaggio, e anche il tie break fino alla fine, quindi l'importante per noi era sbloccarci un pochino, siamo riusciti a fare un punto e quindi insomma buono, speriamo di aver incanalato la strada giusta. Bisogna pensare positivo, è ovvio che volevamo la vittoria, insomma ci siamo andati vicini, dobbiamo rimanere compatti, uniti e continuare a crederci perché penso che i risultati arriveranno. E anche per oggi è tutto, io vi aspetto domani sempre qui sul canale 90 del Digitale Terrestre. Grazie per essere stati con noi, auguro a tutti una felice serata.